Buongiorno e ben ritrovati a di prima mattina la puntata odierna di sabato 2 dicembre chiude Un'altra settimana trascorsa tutte le mattine insieme con le notizie della rassegna stampa lo faremo anche tra pochissimo andando a leggere proprio i titoli e le principali notizie dei quotidiani e dei siti di informazione locali e poi essendo sabato come sempre come di consueto andremo a fare un po' le carte al weekend sportivo concentrandoci in particolare sul calcio con il nostro Diego di Felice Antonio E anticiperemo tutti i temi del weekend appunto nei vari campionati che scenderanno in campo Iniziamo però subito la nostra rassegna stampa partiamo dalla prima pagina del quotidiano Il Centro L'apertura è dedicata alla cronaca e al grave incidente sul lavoro nel quale ieri mattina ha perso la vita un giovane di Civitella More schiacciato sotto un rullo è il titolo del centro che poi spiega appunto nel sottotitolo come è avvenuta la tragedia di Civitella con l'operaio 31enne che è rimasto intrappolato nel macchinario Nella fotonotizia centrale invece si parla dei lavori del Corso di Teramo Corso San Giorgio quasi pronto Ma Brucchi subito la precisazione la postilla del titolo del centro sta per cadere Comune in crisi si spiega 18 consiglieri decisi a dimettersi mentre la foto invece riguarda appunto il sopralluogo effettuato ieri mattina dal sindaco Con l'assessore ai lavori pubblici Mario Cozzi i lavori appunto procedono saranno riconsegnati in gran parte diciamo per quanto riguarda il corso l'8 dicembre Largo San Matteo qualche giorno più tardi Poi nelle cronache invece nella spalla le altre notizie che riguardano la provincia di Teramo Giulianova i carabinieri scoprono la casa cinese del sesso Il blitz proprio dei carabinieri di Giulianova che hanno scoperto e poi sanzionato anche la donna cinese che gestiva proprio questo centro cinese che come dire offriva prestazioni sessuali ad ogni ora del giorno e della notte Scuola bussi irregolari 9 a giudizio appalti a Teramo e Silvi si aprirà a febbraio il processo che riguarda anche l'ex assessore del comune di Teramo Piero Romanelli Ad Atri invece c'è grande attesa per il grande rito dei faugni tre giorni di eventi incentrati proprio sul rito dell'accensione delle grandi fiaccole nella notte dell'Immacolata nel centro storico di Atri Queste le principali notizie sulla prima pagina del quotidiano il centro andiamo a vedere prima di sfogliare anche le pagine interne del quotidiano regionale La prima pagina della città anche per un confronto tra i due giornali l'apertura ovviamente la stessa dedicata alla tragedia sul lavoro muore schiacciato sotto un rullo Stefano Chiodi è la vittima un 31enne tecnico civitellese che stava facendo manutenzione in una ditta del posto In questo caso la fotonotizia è proprio dedicata alla Blitz, all'operazione dei carabinieri di Giulianova che hanno smantellato una casa d'appuntamento gestita da cinesi Il titolo è Lanterne Rosse Nel taglio alto invece il richiamo al processo che si terrà appunto a Teramo sull'appalto degli scuolabus della Frat Arcange Gli scuolabus sgangherati sono nove, i rinviati a giudizio Di spalle invece troviamo la politica con la presenza del capogruppo PD alla Camera Ettore Rosato ieri a Teramo Che ha parlato anche dell'onorevole Ginobile Dipendesse da me lo ricandiderei, dichiara Rosato Ginobile che è stato tra gli organizzatori Proprio di questo incontro con il padre del Rosatellum della nuova legge elettorale Mentre per quanto riguarda la crisi politica a Teramo la compagnia dei 17 è stata riunita Così il titolo evocativo della città che parla ovviamente dei consiglieri di opposizione Insieme a quelli di futuro in che sarebbero pronti a dimettersi proprio lunedì Vedremo cosa accadrà La politica tiene banco anche ad Atri perché ci si avvicina alle elezioni amministrative del prossimo anno E sfida tra Ferretti e Felicione si stringe il cerchio attorno al prossimo candidato sindaco Ancora altri richiami, Rosetto degli Abruzzi, illuminazione incognita, ricorsi sul project Poi nel taglio basso c'è l'intervento dell'imprenditore Bacchisi Oledda Che dice da Teramo una elevata di scudi in difesa del sistema Amazon Finito tra le critiche negli ultimi giorni per lo sciopero dei dipendenti del centro di Piacenza E infine lo sport, dimenticare il derby, ci sono ancora gli strascichi della sfida persa contro la Samb Un diavolo aggressivo per guarire Se ne riparlerà ovviamente la prossima settimana perché il Teramo tornerà in campo soltanto sabato 9 dicembre Questa è la prima pagina del quotidiano La Città Anche in questo caso lasciamo in sospeso per tornare più avanti sulle pagine interne Dunque sulle cronache locali, torniamo invece adesso indietro e passiamo al primo piano del centro Iniziamo a sfogliare il quotidiano regionale partendo dalle notizie che riguardano l'esperimento SOX L'esperimento che dovrà essere effettuato nei laboratori di fisica nucleare del Gran Sasso Perché si continua a discutere, c'è stato un dibattito anche in tv sul rete 8 tra le due posizioni contrapposte Da una parte il fisico dell'INFN Pallavicini Dall'altra uno dei leader del movimento ambientalista, in questo caso del forum delle acque De Santis Test radioattivo, vogliamo andare avanti Queste le parole, la posizione appunto del mondo scientifico dell'Istituto di Fisica Nucleare C'è stato appunto questo dibattito per mettere a confronto le diverse tesi e le diverse posizioni Proseguiamo con le altre notizie, andiamo rapidamente sfogliando le pagine dell'attualità Andiamo sulla cronaca regionale L'Abruzzo, sanità e proposte, basta con i campanilismi ASL, unica, pescara, chieti L'appello del consigliere Olivieri sulla querelle degli ospedali di secondo livello Decisioni chiare per tutelare il bene più importante e prezioso, cioè la salute Eccoci a Teramo adesso La cronaca, tragedia dell'amore a Civitella, amore a 31 anni Schiacciato da un rullo, l'operaio stava facendo manutenzione nell'azienda Simplast Sequestrato il macchinario, il PM dispone l'autopsia Ci sono le foto dell'azienda dove è venuta la tragedia e dell'intervento dei carabinieri Poi il ritratto della vittima Stefano Chiodi, 31 anni Tutto casa e lavoro è tifoso della squadra locale, cioè il Favale Squadra che è impegnata nel campionato di prima categoria Ovviamente anche il mondo sportivo locale è a lutto per questa tragedia Nel taglio basso invece Le storie delle donne vittime di violenze che si sono rivolte al centro La Fenice Così sono rinata dopo 25 anni di soprusi Questa è una delle testimonianze di una vittima Che ha raccontato la sua esperienza durante l'evento organizzato in biblioteca Federica Vasanella, consigliera provinciale, dice Nelle denunce c'è una forte relazione tra le violenze e disagi come la ludopatia Le altre notizie L'istruzione, guerra tra scuole, bocciati nuovi indirizzi proposti dalle superiori Tra i dirigenti non si trova un accordo La conferenza scolastica provinciale approva solo grafica e comunicazione Al piano rosa di Nereto Tutte bocciate invece le altre proposte Così come era stato già anticipato Di spalle invece c'è una notizia appunto che riguarda la visita Nella sala polifunzionale della provincia Ieri pomeriggio di Ettore Rosato Il deputato del Partito Democratico Durante l'incontro dedicato alla legge elettorale I precari dei vigili del fuoco si sono presentati Per protestare e chiedere aiuto Proprio a Rosato sulla loro situazione Taglio basso Teatro amatoriale Si costituisce il comitato provinciale FITA Presentato ieri in una conferenza stampa al BIM Ecco invece l'articolo sui lavori in corso San Giorgio Via il cantiere entro l'8 dicembre Il sindaco assicura all'Immacolata Vedrete il vero colore della pavimentazione Che infatti da ieri sera è stata interessata Dagli lavori di impermeabilizzazione Mentre per terminare l'intervento in Largo San Matteo Si dovrà attendere fino a gennaio La politica con la crisi in comune Pronti a dimettersi 18 consiglieri Lunedì l'appuntamento all'ufficio protocollo Per far cadere Brucchi Mancheranno il presidente del consiglio comunale Milton Di Sabatino E Paola Cardelli Intanto Tiberi Il capogruppo di Alternativa Popolare Lancia un ulteriore appello A Futuroin Per firmare il programma di fine consigliatura Poi se mancassero ancora i numeri Dice tutti a casa Andiamo avanti con le altre notizie Siamo alla giudiziaria L'inchiesta sugli scuolabus Pulmini senza manutenzione 9 persone rinviate a giudizio A processo i vertici della ditta Frat Arcangeli L'ex assessore Romanelli E tre dipendenti comunali L'inchiesta riguarda gli appalti Per il servizio di trasporto scolastico Nei comuni di Teramo e Silvi Entrambi gestiti proprio dalla Frat Arcangeli Taglio basso La politica vibratiana Dopo la caduta Dell'amministrazione comunale di Nereto L'ex sindaco di Flavio Interviene pubblicamente E dice da Salvi Ex assessore della sua giunta Che si è dimesso insieme ai consiglieri di opposizione Uno sfregio a Nereto Dice di Flavio Si è dimesso con motivazioni risibili Ancora avanti Tortoreto Il Comune mette da parte i soldi Per sistemare le scuole Il Consiglio approva l'assestamento di bilancio Oltre 300.000 euro Per gli edifici scolastici Creato un fondo Destinato all'aiuto dei poveri Ancora polemiche invece Sul risarcimento Per l'alluvione L'economia della Val Vibrata Area di crisi Prorogati i termini per i bandi Il Ministero fisso il 21 dicembre La scadenza per presentare i progetti E chiedere i finanziamenti La cronaca da Giulia Nova Colpo alla prostituzione Blitz nella casa delle schiave del sesso I carabinieri scoprono cinesi Clandestine costrette Ad avere rapporti A qualsiasi ora Su materassi stesi a terra Divieto di dimora alla tenutaria Una 54enne Sfruttata Rivela Ero venuta in Italia Per fare la badante Sempre a Giulia Nova Il sindaco Mastromauro Replica le critiche Relative al calendario Di eventi invernale Natalizio E assicura il calendario È pronto Verso il Natale C'era stata la critica La polemica Sulla mancata Predisposizione appunto Del calendario Degli eventi Invece così Non è la rassicurazione Appunto Di Mastromauro E a proposito di eventi Invece è tutto pronto Adatri Per la notte Dei Faugni Che quest'anno Si estende Durerà La manifestazione Ben tre giorni Dal teatro Di Carmine Buschini Al concerto notturno Dei Modena City Ramblers Tanti appuntamenti Per l'antichissimo E magico Rito delle Fiamme Per chiudere Nel taglio basso Roseto Bando per la pubblica Illuminazione Approvato il progetto Ora la scelta Dell'impresa Che realizzerà L'opera È tutto per le pagine Che riguardano La cronaca Terramana E della provincia Dunque Sfogliamo rapidamente Le altre province Per passare Allo sport La pagina sportiva Dedicata in apertura Ovviamente La Serie A Con gli anticipi di ieri La vittoria Della Juventus A Napoli Quella della Roma Sulla SPAL Articolo sui sorteggi Del Mondiale 2018 Dove come sapete Non ci sarà L'Italia Quindi andiamo avanti Rapidamente Siamo alla Serie B Oggi Pescara Ternana Sebastiani Blinda Zeman L'allenatore Non si tocca Il presidente dice Il Boemo Non è a rischio Abbiamo un programma Da rispettare Ma il Pescara Deve scuotersi Dopo un periodo Altamente negativo Così come non è un periodo Felicissimo per il Teramo Che oggi riposa Serie C Il Bonolis è un tabù Teramo va meglio Nelle gare in trasferta Negli ultimi due mesi Una sola vittoria Casalinga con il Padova Mentre lontano da casa La squadra È imbattuta Dal 24 settembre Il prossimo impegno Casalingo Sarà quello di sabato prossimo 9 dicembre Contro il Fano Serie D Nel taglio basso Si parla dell'Aquila I nuovi soci Escono allo scoperto Siamo qui per metterci La faccia Rottilio Dionisi E del Giudice Annunciano il pagamento Di una mensilità Sempre veri dilettanti Ci sono Trattative Chiuse Per il mercato Che ha riaperto Proprio ieri Nella finestra dicembrina Il Pineto Ha ingaggiato L'attaccante Tomassini Provedente dal Montevarchi 25 anni Ha giocato 15 partite Realizzando 4 gol Mentre anche San Nicolò Rinforza l'attacco Con Tiboni Cristian Tiboni Ex Vediamo subito Arrivato Dal E dal Palazzolo Ecco qui Non ritrovavo esattamente L'indicazione Nell'articolo Del centro Ex Palazzolo Ma con un'esperienza Importante In passato anche In campionati maggiori Tra professionisti E una delle mosse Dopo quella di Gian Paolo Della società Del presidente Di Giovanni Per rinforzare Appunto L'attacco Diverse altre mosse Per esempio Anche la vastese Ha ufficializzato Gli ingaggi Degli attaccanti Chirillo Per quanto riguarda La pallamano Ultimo titolo Lions e Globo In trasferta Farma più Con Altamura Proger Fa visita Al fondi Questo Il quadro Delle abruzzesi Con in particolare Le terramane In primo piano È tutto Per quanto riguarda Il quotidiano Il centro Possiamo Cambiare Ovviamente Pagine È proprio il caso Di dirlo Voltare pagine E tornare Sulla città Abbiamo già letto La prima pagina Poco prima Andiamo all'interno Iniziamo subito Dalla Giudiziaria E quello qua L'inchiesta Frate Arcangeli Scuolabus Sgangherati Nuove a processo Anche sulla città Ovviamente Si dà notizia Del rinvio a giudizio Tra gli altri Dell'ex assessore Piero Romanelli Dei vertici Della società Frate Arcangeli Che gestiva L'appalto Scuolabus A Teramo E a Silvi E di dirigenti Comunali Quindi il processo Inizierà A febbraio La politica La compagnia Dei 17 È riunita Come abbiamo visto Si parla della crisi In comune Del probabile Possibile Insomma Delle possibili Dimissioni In massa Lunedì Prossimo Dal segretario Comunale Verna e Marroni Per le dimissioni Anche se Lunedì Almeno in due Mancheranno All'appello Si tratta di Milton Di Sabatino E Paola Cardelli Rosato Ieri a Teramo Dipendesse da me Lo ricandiderei Il riferimento L'onorevole Tommaso Ginobile Ma sarà il territorio A decidere Affermato il capogruppo Alla camera Del partito Democratico Scuola Oggi l'open day Il Pascal Comi Forti Apre le porte Al futuro Entrambe le sedi Saranno aperte Al pubblico Per illustrare I tanti indirizzi Di studio Offerti Dalla scuola Per quanto riguarda Ancora le altre notizie Il lavoro Da Teramo Parte la difesa Del gruppo Amazon L'imprenditore Bacchisi Oledda Controcorrente La parte debole Nei contratti Ormai è diventata L'azienda L'intervento Relativo appunto Alle polemiche Seguite Gli scioperi Dei dipendenti Amazon Del centro smistamento Di Piacenza Ancora notizie Torniamo a parlare Di scuola Nuovo indirizzo Solo al Peano Rosa di Nereto Via libera Al corso di Grafica e comunicazione Niente da fare Per gli istituti Chiuri Milli Moretti E Alessandrini Marino La bocciatura In particolare Per il Chiuri Di Giulianova Che voleva un indirizzo Di design e grafica Ma la proposta È stata bocciata Dalla conferenza Scolastica Esempio per aiutare Le donne a denunciare La biblioteca Delphi Con la testimonianza Di una vittima Di violenza Che ha trovato Il sostegno Del centro La Fenice E poi la cronaca Con la tragedia Sul lavoro Che era in apertura Sulla prima pagina Del quotidiano La città Amore a 31 anni Schiacciato sotto un rullo Stefano Chiuri Ha perso la vita Durante un intervento Di manutenzione Alla Simplast Di Civitella Del Tronto I funerali Si svolgeranno Domani mattina Prevista per oggi L'autopsia Disposta Dal magistrato Ancora la cronaca Casa Lucirosse Nell'appartamento In centro Ragazze cinesi Costrette Da una Con nazionale Quarantasettenne A prostituirsi Con decine di clienti Al giorno Convinte a venire in Italia Per lavorare come badanti Erano invece costrette A prostituirsi La clientela La clientela Era composta Da studenti Artigiani Commercianti E professionisti Che frequentavano La casa A luci rosse I carabinieri Hanno fatto irruzione Trovando la maîtresse E una connazionale Impegnata Con un cliente Altre notizie Altre notizie di cronaca Dalla costa Arrestato lo spacciatore In bicicletta La stradale Ferma un 37enne Trovato in possesso Di cocaina E di hashish Sempre A Giulianova Illuminazione Se ne parla Roseto Incognita Ricorsi Sul project financing La maggioranza Approva la nuova proposta L'opposizione Invece Dice Ancora valida La delibera Del vecchio Progetto Atri Al voto C'è Dibattito Sulla scelta Del candidato Sindaco Nel centro-destra E sfida Tra Ferretti E Felicione Diplomazia Al lavoro Per non far scappare Marcone Il sindaco Astolfi Rassicura Andremo Uniti Alle elezioni Per quanto riguarda Lo sport Andiamo a chiudere Con le notizie sportive Del quotidiano La città Anche in questo caso Il teramo In primo piano Un teramo Aggressivo Per guarire La ferita derby Asta Pensa Al 3-4-2-1 Per la gara Colfano Ufficiale Intanto Il regolamento Playout Spareggiano Le ultime due Sono stati concessi Due giorni Di riposo Al teramo Che appunto Oggi e domani Si fermerà A guardare Invece Cosa faranno Le altre Impegnate In campionato Serie D San Nicolò E Pineto Grandi manovre Davanti Ecco Tiboni E Tomassini Le due formazioni Teramane Del girone Si rinforzano Si rinforzano Nel reparto avanzato Probabile esordio Per entrambi Già domenica Spazio al basket Domenica col derby Nel campionato Di Serie B C'è Campli Giulianova Farnesi Nel gruppo E Cicognani Acciaccati Per quanto riguarda Tutti di rassegna stampa Dedicati al web Come di consueto Spazio alle notizie Sui principali siti Di informazione Partendo da ML.it Anche qui C'è tanta cronaca In apertura Con la giudiziaria Intanto Appalto scuola bus Frate Arcangeli Processo a febbraio Per nove Ci sono anche L'ex assessore Romanelli E tre dipendenti Comunali Altra cronaca Scoperta a casa Lucirossi A Giulianova Gestita da una cinese Carabinieri Insospettiti Dalla fila Di clienti Mentre Si parla Della tragedia Sul lavoro Di Civitella Operaio di 31 anni Muore schiacciato In un'azienda Appunto Di Civitella Del territorio civitellese Nella frazione Di Santa Reparata Tra gli altri Titoli Quello relativo All'incontro Terramano Con l'onorevole Rosato Il padre Della nuova legge Elettorale Che ieri pomeriggio Appunto Ha incontrato Il mondo politico E i cittadini Nella sala Polifunzionale Della provincia Chiudiamo Con L'home page Di City Rumors Anche qui Notizia Di giudiziaria Sul rinvio Giudizio Di nove persone Relativo All'inchiesta Sulla Scorriamo Le altre Notizie Di cronaca Per arrivare Appunto A chiudere Con Il blitz Dei carabinieri Di Giulianova Che hanno scoperto La casa D'appuntamenti Gestita Da una Donna cinese Che è stata Allontanata Appunto Dal territorio Comunale Dal territorio Comunale Giuliese Per Appunto Iniziativa Dei carabinieri Che hanno Scoperto Questa Casa D'appuntamenti Gestita Dalla Metress Cinese E' tutto Dunque Per quanto Riguarda La nostra Rassegna Stampa Dunque Abbiamo chiuso Con Uno sguardo Alle Home page Dei siti Di informazione Adesso Come al solito Una pausa E tra poco Torneremo Di nuovo Qui insieme Nel nostro studio Con la seconda parte Di prima mattina Di prima mattina